Buonasera, grazie per essere con noi in Onde al 37esimo Zerino Film Festival. Abbiamo con noi Francesca Lodi e Bruno Digoni, autori di Voglio vivere senza vedermi. Grazie mille. Una cosa sul titolo magari, che magari spiazza un po' qualcosa a qualcuno. Probabilmente Voglio vivere senza vedermi è quello che tutte le mattine le persone che esercitano potere dicono quando si svede. Cioè tutto quello di osceno che farò nella mia giornata non voglio vederlo. È come se è una cosa che non mi riguarda. Per cui questo è un film che cerca di guardare anche proprio nella parte più buia di noi. Abbiamo cercato di rappresentare, se così si può dire, di cercare di fermare per immagini quello che è tutta la polietricità del potere di quello che per noi è rappresentata. Insomma, come abbiamo visto io, tangibilmente lo sentiamo ogni giorno. Grazie alla visione. Buona visione a te.